Ciao a tutti da Luna di vidlab.it, eccoci giunti alla terza lezione di storia dell'arte greca. Oggi cominciamo ad entrare nel vivo della materia perché ci troveremo davanti agli inizi di quest'arte, arte greca che da questo momento comincerà a svilupparsi in maniera autonoma e coerente. Vedremo la Grecia delle forme geometriche. L'altra volta abbiamo parlato della civiltà micenea e della sua fine. Nel corso del XIII secolo i palazzi di Pilo, Micene, Tirinto e Tebbe subirono una prima distruzione mentre si salvarono Atene e Iolco. Ci fu poi una ricostruzione, ma di nuovo intorno al 1200 si ebbe una seconda serie di distruzioni. L'archeologia ha riscontrato che in questo periodo furono realizzate fortificazioni, soprattutto a controllo delle coste, per cui si è pensato che il pericolo provenisse dal mare. Nonostante questo, palazzi e fortificazioni scomparvero e con la fine del XII secolo il continente greco e le isole subirono uno spopolamento. Da questo momento seguì un'epoca che è chiamata Età Oscura, o Dark Age in inglese, o ancora Medioevo ellenico, caratterizzata da una regressione generale dell'economia, dall'abbandono dell'agricoltura ed anche degli scambi commerciali. Per quel che riguarda i motivi di queste catastrofi si è pensato a calamità naturali, terremoti, incendi, seguiti da carestie. Tutto ciò avrebbe causato lo spostamento delle popolazioni nell'area Aegea, e in questo quadro andrebbe inserita anche la famosa invasione dorica, che è stata tramandata come leggenda del ritorno degli eracliti nel Peloponneso. Questi spostamenti hanno così lasciato il ricordo nella mitologia. Nacque anche la tradizione sui nostoi, i ritorni degli eroi dalla guerra di Troia. Senza entrare troppo nel merito, per non dilungarci troppo e per lasciare spazio all'approfondimento, in caso vi interessasse, è importante comunque sapere che proprio questa mobilità di popoli, e in particolare di artigiani, come ceramisti e bronzieri, aiutò la Grecia ad uscire dall'età oscura, e a vivere una rinascita, che sarà compiuta nell'VIII secolo quando ci fu anche la grande colonizzazione in Occidente. Già a partire dalla metà dell'XI secolo, comincia a comparire una ceramica particolare, caratterizzata da semplici decorazioni a motivi geometrici. È l'epoca della cosiddetta ceramica proto-geometrica. Lo stile partì da Atene, dove troviamo le manifestazioni più caratteristiche, e da lì si diffuse non solo nell'Attica, ma anche in tutta la Grecia. Eccone un esempio. Le forme scelte dai ceramisti sono prevalentemente quelle atte a contenere liquidi, come le anfore, e vedete la decorazione semplicissima con questi cerchi concentrici e queste fasce. Altri motivi che si trovano sono semicerchi, quadrati, rombi, reticolati, zigzag. Nella sua semplicità questa decorazione è comunque precisissima. I cerchi sono perfettamente regolari e tutte le linee sono uguali nello spessore parallele.